ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora purtroppo ancora brutte notizie per quanto riguarda gli infortuni Simone Verdi dovrà star fuori ancora un altro mese per infortunio come tutti ben sappiamo è già da circa un mesetto che Verdi è fuori dai campi di gioco precisamente da quando giocò dall'inizio la partita d'Udine contro l'Udinese dove però fu costretto ad uscire dal campo dopo appena un minuto di gioco proprio per infortunio e quest'infortunio l'ha tenuto fuori dai campi di gioco per circa un mesetto e il suo rientro in campo era previsto proprio per la partita di questa domenica al San Paolo contro il Chievo però purtroppo un paio di giorni fa allenandosi normalmente con il gruppo a Castelvolturno ha preso questa botta alla caviglia in questi due giorni successivi alla botta alla caviglia hanno analizzato meglio le sue condizioni e quindi hanno comunicato a Simone Verdi che dovrà star fuori dai campi di gioco per ancora un altro mese e quindi si arriverà a fine dicembre che Verdi sarà stato circa due mesi fuori dai campi di gioco il suo rientro sembra sia previsto per la partita del 26 dicembre nel giorno di Santo Stefano a San Siro contro l'Inter anche se sappiamo che al 26 dicembre mancheranno praticamente quattro giorni alla sosta di gennaio non credo che Ancelotti schiererà Verdi da subito nella partita contro l'Inter al massimo lo potremmo vedere nella partita contro il Bologna proprio contro la sua ex squadra però secondo me alla fine Verdi lo vedremo direttamente dopo la sosta di gennaio e quindi per la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia che si giocherà nel weekend tra il 12 e il 13 gennaio mentre poi ricordiamo che il 20 gennaio riprenderà il campionato con l'inizio del girone di ritorno però veramente ragazzi con questi infortuni non se ne può più non se ne può più perché davvero ultimamente stiamo avendo più infortuni ma poi la cosa assurda è che è l'ennesima volta che quando un calciatore sta per rientrare poi si va a far male nuovamente è successo la scorsa stagione con Goulam che quando aveva recuperato dalla rottura del legamento si è andato a rompere la rotula in allenamento e quindi è stato costretto ad operarsi nuovamente e ancora oggi dopo oltre un anno non rivediamo Goulam in campo. Meret appena acquistato si va a rompere il braccio al primo giorno di ritiro a Di Maro. Kiriches si va a rompere il legamento in una partita di serie C di Nations League Romania-Montenegro cioè proprio per farvi capire. Juntz non si è capito come si è fatto male. Meret e Juntz ricordiamo che noi li dobbiamo ancora vedere in campo ancora non l'abbiamo visti scendere in campo con la maglia azzurra. Meret sembra che dovrebbe rientrare in campo per inizio metà dicembre. Juntz dovrebbe rientrare per gennaio mentre Goulam sappiamo che già da inizio novembre Ancelotti lo sta sempre tenendo a disposizione lo sta portando in panchina però bisognerà vedere da quando potrà iniziare a scendere in campo però comunque ci vorrà un bel po' di tempo per rivedere il vero Goulam perché sappiamo che oltre un anno che fuori dai campi di gioco e Verdi che si era andato a far male in un modo veramente sfortunatissimo praticamente da solo nella partita ad Udine ora aveva recuperato e si va a far male in allenamento. C'è veramente noi con questi infortuni dobbiamo andarci a far benedire perché veramente non se ne può più e comunque è un infortunio che speriamo non pesi troppo perché come già ho detto nei video degli scorsi giorni noi fino a fine dicembre fino al 29 dicembre abbiamo nove partite in un mese e quattro giorni quindi un vero e proprio tour de force quasi sempre abbiamo partite nel giro di 3-4 giorni tra campionato e Champions League oltretutto partite anche molto importanti perché queste partite queste nove partite che giocheremo fino a fino a fine dicembre possono essere veramente molto importanti per capire quella che sarà la nostra stagione sia in campionato sia in Champions League e Simone Verdi comunque era un calciatore sul quale potevamo puntare in queste partite e sul quale sicuramente Carlo Ancelotti faceva affidamento nelle sue varie rotazioni perché comunque Verdi prima dell'infortunio ad Udine ha trovato abbastanza spazio ha giocato abbastanza partite da titolare poi tante volte è entrato anche a partita in corso e stava facendo davvero molto bene aveva anche messo a segno un bel gol contro il Torino però ora bisogna vedere come gestire la situazione lì sulla destra perché Callejon a questo punto è costretto a fare gli straordinari altrimenti in quella posizione se in qualche partita Callejon dovrà riposare dobbiamo adattare o Zielischi o Fabian Ruiz. Fabian Ruiz ha già ricoperto in alcune partite quel ruolo così come anche Zielischi però sappiamo che in quel ruolo soprattutto sugli esterni destri serve un calciatore che abbia buone caratteristiche anche in fase difensiva quindi più che Zielischi io metterei Fabian Ruiz nel caso Callejon avesse bisogno di rifiatare oppure quando Ancelotti li terrà opportuno far riposare Callejon secondo me potremmo fare anche un bel 4-3-1-2 con Zielischi trequartista perché come stiamo dicendo più volte in alcune partite Zielischi quando gioca a centrocampo siamo un po' troppo scoperti subiamo contropiedi e secondo me Zielischi è un calciatore che in quella posizione a centrocampo non può giocare perché è un calciatore soltanto di fase offensiva e proprio secondo me sarebbe opportuno provarlo o come trequartista o come seconda punta quindi nel caso ci sarà necessità di far riposare Callejon in delle partite possiamo fare un 4-3-1-2 con un centrocampo a tre ad esempio formato da Fabian Ruiz, Amsic e Dallan e con Zielischi dietro Mertens ed Insigne. Ovviamente queste sono ipotesi poi tutto è nelle mani del nostro grande mister Carlo Ancelotti che sicuramente saprà adottare al meglio le proprie strategie tattiche e saprà scegliere al meglio come ha fatto finora i calciatori da mandare in campo e la Rosa come stiamo dicendo più volte la sta gestendo veramente alla grande. Speriamo che Verdi rientri al meglio perché è un calciatore sul quale abbiamo puntato molto, sul quale abbiamo fatto un investimento molto importante e sul quale ci sono veramente delle grandi aspettative e io ho molta fiducia in lui perché è davvero un calciatore dalle qualità indiscusse. Quindi ragazzi detto questo io vi saluto finalmente la sosta delle nazionali è passata e tra due giorni rivedremo il nostro Napoli in campo veramente non ce la facevo più e quindi finalmente è arrivato il momento senza Napoli veramente non si può stare e ora sono veramente carico e pieno di passione in vista di domenica. Quindi ragazzi ciao a tutti e sempre forza Napoli!